la piattaforma dice il vecchio color type credo che ora non sia più possibile cioè mix spiegami ah ho capito sì sì ho capito ho capito ho capito ho capito così sì sì certo avete ragione però perdonatemi io adesso non in magic the gathering i dati raccolti dai vari software per quanto riguarda un torneo competitivo erano i dati che contavano fino a questo momento perché sono dati che raccolgono un campione statistico vero cioè quel mazzo lì ha vinto quel torneo con quella lista lì e vincendo quel torneo ha battuto caio tizio caio sempronio ok poi cosa succede quei dati lì quei dati lì vengono messi insieme ad altri dati dove quel mazzo ha vinto altri tornei o si è classificato toti in altri tornei giusto sì è così che funziona quindi la mia domanda è come fanno come come caspita classificano prendendo solo un campione gigante dove non c'è rapporto tra i dati che hanno raccolto è su questo che io mi blocco sempre e non capisco perché la gente dica che è affidabile cioè sui 15.000 match che ha fatto quello lì cosa ha battuto in quei 15.000 mazzi lì e perché mi arriva a 15.000 perché ho raccolto 15.000 partite della stessa lista è sbagliato ragazzi eh però in teoria è sbagliata quella cosa lì perché c'è adesso un discorso molto complicato in realtà da fare così però loro sanno il mazzo contro chi ha vinto stanno diventando tutti teorici è una gran cheat è una gran cheat va bene vai però vedi le win rate contro i vari match up di quando ma non è possibile rugigus come fanno ad avere la win rate registrata di 15.000 partite cioè tu mi vuoi dire che se io pago vedo 15.000 partite? ha fatto 0-3 Davide però non preoccuparti ci sta come non so non c'è nessun maestro sarci qui io sono molto scettico ragazzi secondo me è troppo imprecisa quella statistica lì come fanno a registrare 15.000 partite per una singola lista e tenere in memoria tutti i dati di quella singola no non è possibile ragazzi non penso sia possibile sono stato scemo devo attivarlo dopo quello però vabbè abbiamo fatto questo che fa la stessa cosa tu eh ma tu non i loro cioè loro non hanno in memoria tutti quei dati lì allora tu hai in memoria quei dati lì poi tengono lo storico per season no non mi convinci rugigus mi spiace sarò scemo io ma non non capisco come facciano a valutare quella win rate lì così cioè allora prendono solo semplicemente dati matematici solo che li prendono da tutto tutto il pool di magic arena e mixano dei dati fallaci per forza perché vuol dire davvero che mixano i dati dal mitico da bronzo a mitico gg da chiunque huntuppet quindi metà dei giocatori già li scartano perfetto non mi basta basta finito se da tutto huntuppet è sbagliato ragazzi è sbagliato quindi tutti i dati qua sopra non esistono cioè se io gioco due ore sul cellulare due ore sul computer registrano solo la metà delle mie partite basta fine è falso è sbagliato ragazzi è sbagliato però ragazzi è sbagliato se non ho una percentuale che mi dice se non ho una grossissima scritta davanti che dice i dati sono presi solo dalla piattaforma non mobile basta fine è sbagliato è proprio concettualmente la mia professoressa starebbe già impazzendo starebbe già impazzendo sì sì psycho ma infatti è quello che dico sempre io però faccio fatica a dare cioè io sono andato a vedere un paio di robe prima e stavo impazzendo cioè ci sono delle decklist che non girano mai su arena ragazzi non ci sono quelle decklist lì su arena anche se vado a vedere assistant che fa la stessa cosa di huntuppet solo che lo fa gratis e lo fa solo per chi è assistant se io vado a vedere il meta di standard monored già un dato completamente diverso perché monored è al 13,26% del meta cioè perché è così diverso da huntuppet per quale motivo è così diverso da huntuppet c'è un motivo vero o è perché raccolgono dati diversi perché se raccolgono dati diversi potete prendere e cestinare tutte le piattaforme perché raga fidatevi non ci può essere una differenza è troppo grossa come differenza sì ma infatti spawn non hanno senso non hanno ma proprio nessun senso logico i dati così è proprio concettualmente sbagliato ragazzi concettualmente sbagliato non è proprio corretto da quel punto di vista lì sì posso attaccare vai no vabbè ma mad se ti piace timeless giocalo non è tanto il problema di timeless il problema grosso è che non capiamo dove vuole andare wizard con timeless perché sembra che voglia fare un po' come vuole ma non lo sta facendo benissimo eh qua moriamo mi sa no non è vero posso guadagnare tre vite di food posso guadagnare tre vite di food vai eh infatti sono dati sono dati veramente troppo diversi allora ragazzi quindi farà questo adesso quindi il 4-4 devo metterlo sotto quello che targetta ora eh però non posso sapere qual è no posso già saperlo perché lo casta prima sul goblin sarebbe stato il top quindi lui il turno dopo ha di nuovo lightning strike io però ho un 4-4 sto a 7 ne passa uno ne passano sì siamo vivi però devo pescare per forza di cose a tarca command qua eh per forza di cose no serve terra ma ci sta ci sta ma se tu ti trovi bene a giocare timeless continua a giocarlo perché c'è la possibilità come dico sempre che diventi il miglior formato di magic così purtroppo non lo è ah siamo morti 3-2 lifelink muore da 3 danni più questo e Shelly non basta GG GG comunque noi come community analizziamo meno match che Untapped ma sì ma che vuol dire ma Psyco però io come community gioco anche contro i giocatori del cellulare che non esistono per Untapped scusami eh hai ragione eh hai ragione però mi fa molto ridere il fatto che la gente dica eh ma hanno più dati di noi eh ma io gioco contro quelli del cellulare e quei dati lì non esistono ragazzi ma di che cosa stiamo dicendo ciao tutto bene Gretaway no lo so ho capito che sono ma certo che sono sempre di meno io non valgo come 15.000 partite però io scusate se io vado a vedere le mie stats se io vado a vedere le mie stats le mie quelle che ho fatto il mese scorso quando vi porta il il le statistiche te le manda la wizard eh te le manda la wizard le statistiche quindi sono vere sono più affidabili di tutte quelle che ha Untapped io ho fatto adesso non lo troverò mai più mannaggia l'avevo scaricato io ne ho fatto migliaia di partite ragazzi migliaia di partite quindi io come giocatore singolo conto come quelle x migliaia di partite lì ok adesso ve lo ritrovo comunque poi il il dato in quelle migliaia di partite lì Antonio sto preparando l'esame di epidemiologia quello che dici è assolutamente vero i dati raccoldi quindi il campione statistico deve rispettiare l'intera popolazione presa in esame se escludi una fetta di dati stai calcolando nel bias di selezione oh grazie a Dio qualcuno che ha studiato per davvero statistica grazie signore oh sì grazie grazie la mia professoressa di Torino ti darebbe un bacio in questo momento grazie grazie è giusto finalmente qualcuno che dice il vero oh sto male è tutto ragazzi quella lì è statistica tutto il resto sono chiacchiere ragazzi oh meno male meno male meno male perché altrimenti il campione rappresentativo come direbbe la mia professoressa è puramente sbagliato oh grazie signore di Dio grazie piango piango mamma mia va bene grazie grazie Antonio meno male ragazzi grazie adesso ci fa un double strike gigante ci ammazza questo però non potevo bloccare il prossimo turno riguadagniamo troppe vite ciao Nembo esatto no perché stavo facendo un po' di scout in Nembo e non capisco veramente veramente il deck monorosso blitzk grazie Ita grazie 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 mi fa piacere grazie mille perché veramente ragazzi io stavo impazzendo completamente nel cercare di capire come ragionavano quelle piattaforme lì perché non è possibile che quei dati lì siano corretti non è non è possibile non funziona così proprio la raccolta dati di statistica non funzionano così varie cose veramente impazzisco ciao Barz tutto bene tu come stai caro tutto bene tutto bene qui mettiamo sotto un blocco no oh sì sì è un 3-2 perché no sì scusate sì è lifelink cioè anche se lo fa diventare gigante comunque riguadagniamo 3 vite che dovrebbero essere abbastanza importanti qui facciamo terra animiamo landa e poi attiviamo questa credo no nel prossimo turno attiviamo quella pensa pensa cioè per quanto il dato raccolto io non dico ragazzi che un tapped lavori male io dico che il dato per quanto è grosso non può essere vero mai ma è vero perché scarta veramente troppi giocatori troppi giocatori eh Barz lo so me l'hanno detto che è bello esatto Rugikus è quello che sto dicendo anch'io è quello che sto dicendo anch'io però se voi mi dite è mantaped raccoglie tantissimi dati e vanno bene non è vero ragazzi non è vero che vanno bene no ragazzi purtroppo non sto seguendo il protour perché sto lavorando tanto ah io non guadagno tre vite però perché sto lavorando tanto in questo in questi due giorni qua oggi è il primo giorno in cui sono a casa e forse riesco a guardare qualcosa scusate lo so che dovrei seguirlo di più anche da content creator ho sbagliato devo fare questo prima da content creator dovrei seguirlo di più avete ragione vi chiedo scusa però purtroppo la mia vita lavorativa me lo impedisce attaboy è giusto quello che stai dicendo è giusto quello che stai dicendo ma quando tu vai a fare un campione statistico e questo è giusto ti chiedo dimmi se ho ragione quando tu vai a fare un campione statistico di una popolazione tu non puoi escludere a prescindere scusa ricomincio quando vai a fare un campione statistico su una popolazione se la popolazione è divisa in biondi o mori tu devi prendere tutta la popolazione non puoi escludere a prescindere i biondi per quanti siano grossi i mori per quanto sia grosso il campione dei mori i biondi esistono i biondi vanno presi in considerazione quindi su Untapped tu puoi prendere tutta la popolazione del computer che ha Untapped quindi già vai a scartare una parte dei mori comunque perché non tutti sul computer hanno Untapped che condividono i dati e escludi a prescindere i biondi cioè sì sì Akira è Simone sì cioè capite? eh non è vero Leo non è vero no 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 ragazzi non è vero non è vero perché allora stai analizzando i mori non stai analizzando la popolazione no non è vero no dio mio non è vero Leo ti prego no no la mia professoressa l'ho sentita cadere da qua sta cadendo sta cadendo ragazzi sta cadendo poverina la mia prof di statistica sta impazzendo poverina mi dispiace prof no lo so ragazzi comunque sono discorsi tutti complicati e in una parte avete ragione assolutamente anche voi capisco che a livello di numerazione matematica ci sta a prendere in considerazione una mole di dati ampia però non è non è il dato corretto cioè quello che sto dicendo io è che è giusto prendere riferimento a un tapped è giusto a prendere riferimento a un tapped come punto di partenza per capire quali sono i mazzi più giocati sul campione di un tapped ok sul campione di un tapped non è corretto ed è quello che dico io analizzare solo ed esclusivamente quei dati e definirli corretti grande darso grazie mille di cuore per il quinto mese grazie mille è quello che sto dicendo io perché se io devo andare a dire no ragazzi guardate che ci sono dei 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 siti che danno la verità di arena non esiste non c'è non c'è non c'è non si può cioè voi state analizzando solo una parte di campione che quella parte di campione è sicuramente affidabile su quella parte di campione lì però esatto anche quello bars quanti hanno un tapped io non ce l'ho ce l'ho ma non lo uso io non faccio registrare i miei dati su un tapped quindi quello perde tutto bravo leo bravo esatto 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 bravo è proprio quello il discorso bravo leo bravo leo oh esatto è quello il discorso il problema è che ci sono pochi utenti altrimenti se fosse il 99% dei giocatori ma anche già solo l'85% ragazzi andrebbe bene ma così non può andare bene è questo che sto dicendo bravo leo bravo esatto 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 si si leo esatto esatto bravo se i mori fossero 100 il 99% e l'1% della popolazione fossero i biondi è giusto quello che dici tu e cioè che potrebbero essere trascurati è super corretto super corretto il problema è che non lo è non è così cioè quanta gente gioca solo su mobile quanta gente non ha solo non ha un tapped ragazzi è quella roba lì è quella roba lì che è sbagliata e no però psycho piano no piano non si sta confondendo niente secondo quanto riportato su un tapped quelli lì sono i dati generali di arena è un tapped che sbaglia e noi stiamo dicendo il giusto eh ragazzi non andate a dire che stiamo sbagliando noi qua eh è cioè chiariamo questa cosa qui è un tapped che sta sbagliando però eh esatto attaboy esattamente io no gecko povero perché ne ha solo 32 mi moriamo? non lo so dipende che carta hai in mano perché noi andiamo a no non moriamo perché è andato a fare questo? c'è qualcosa che non mi torna su questa giocata ma proviamo a vedere cosa vuole fare pardon ma se io faccio così e poi faccio questo più questo considerando che guadagno 2 ah forse mi ammazza di Mishra sì probabilmente mi ammazzerà di Mishra eh mi ammazza di Mishra vince lui comunque beh infatti quello è giusto psycho quello ho detto anch'io eh se si prendono i dati di un tapped solo per farsi un'idea è completamente corretto ma come verità assoluta assolutamente no ragazzi cioè non si può andare a dire il meta di arena è questo il meta di arena è questo se si guardano solo i dati di un tapped è proprio sbagliato concettualmente ragazzi è sbagliato è sbagliato GG è sbagliato proprio cioè quelli non sono i dati di arena quelli sono i dati di un tapped di una parte della popolazione piccola tra l'altro perché quanti sì sì monored è fortissimo io sono ancora convinto che sia il mazzo più forte di standard sì sì Dembo cioè sì scusami è giusto ho parlato male non sto dicendo che sta che sbaglia nel senso che quello che fa è scorretto sto dicendo che sbaglia perché il dato raccolto che lui spaccia per arena non è arena è un'altra roba non si sa qual è ma non è arena buongiorno squadra speciale buongiorno è un'altra roba quella roba lì ragazzi non è arena non è arena al 100% non lo so tortello adesso dopo lo rigiochiamo questo mazzo perché mi sto tringerando nei discorsi delle statistiche e adesso lo sto giocando anche abbastanza male però non sembra un brutto mazzo questo adesso qui facciamo Amalia e terra che guadagna vita esatto 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 esattamente esattamente sì è vero Nembo spesso e volentieri siamo noi che lo spacciamo per arena sono d'accordissimo con te d'accordissimo con te è vero è vero questo è verissimo quindi io ho un 4-4 il turno dopo facciamo penso Shelly comunque me dipende cosa fa ora esatto Ita esattamente esattamente ok quindi si fa 5 danni o di più 5 danni considerando che ne recuperiamo uno vediamo ha di molti cos'è bello attenzione è un'altra carta di murder hai capito murder come spinge posso fargli il removal però murder è una sorpresa continua murder è una sorpresa continua murder questo ci fa altri 6 danni poi noi togliamo solo il 2-1 è una sorpresa continua murder guarda te il vampiro di murder si forte quello forte se è un altro botto ci ha ucciso vabbè guai in realtà eccoci qua GG eccoci qua morti ok riprovo questo mazzo perché mi sta piacendo bello quello lì bello 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 perché dici attaboy che trasformerebbero la piattaforma è forte Nembo è molto forte adesso riproviamo questo mazzo che mi sta piacendo tanto ma come mai non gioca no forse prima devo studiarlo ancora un po' giochiamolo ancora un po' giochiamolo ancora un po' devo studiarlo questo mazzo gay life in standard proviamo la mattina giochiamo questo ho già capito comunque ragazzi per chiudere il discorso in modo corretto che possa mettere un po' d'accordo tutti io ripeto quanto credo e cioè untapped è un punto di riferimento untapped mtg assistant mtg dex sono tutti punti di riferimento che funzionano per chi vuole avere una idea propria di come funziona questo gioco e di come vanno i suoi formati punti di riferimento nulla di più nulla di meno dal momento in cui vengono definiti da chiunque come corretti basta la cosa è finita cioè non è giusto definire corretto una piattaforma come untapped vuol dire sbagliare punto sono punti di riferimento che analizzano una parte di popolazione e su quella parte di popolazione hanno i dati giusti su tutto il campione arena e su tutti i formati di arena no assolutamente no anzi sbagliano spesso e volentieri in quello combat dati corretti ma parziali esatto esatto allora prima faccio questo però perché lui probabilmente fa il 2-1 combat eh ma il charm verde vedrete che che sale il charm verde ancora lui probabilmente il turno dopo ci sbianca ci sbianca voice of the blessed quindi in teoria dovrebbe fare quello e quindi noi dobbiamo togliere se peschiamo terra vediamo perché noi dovremmo togliere la tisciana che lo sbianca e invece non ci sbianca niente perché è un rischio quello che sta facendo contro di noi esatto nembo esatto esattamente facciamo così tricchete vai speriamo non abbia pescato raffaigne combat mi aspetto qualcosa che interagisca niente non fai doppio drop qualcosa no virtù allora il turno dopo casta virtù lui e noi dobbiamo trovare terra per fare gx perché non ha fatto virtù e perché sta facendo questa adesso cosa caspita ha sbagliato ma sul trigger doveva farla perché questa scelta così va rifacciamo pipistrello perché questa scelta è forte pipistrello con extraction specialist ecco come usarlo bene ecco come usarlo bene il pipistrellozzo qua dai doppio blocca solo uno bravo frost esatto esatto ma sembra di sì barz è vero ma poi si stanno proprio rivelando performati belli cioè per espansioni belle pensavamo che fosse un mezzo flop e invece porca miseria quanto è bello quanto è bello murder at carlof manor sta stupendo tantissimo beh qui abbiamo vinto facciamo removal sta stupendo tantissimo è amico mio ci si prova temeno vi bloccare per forza a shelly ole vai 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 beh che però barz hanno riportato queste e già non è poco sono le le painland le painland in standard vogliono dire barz comunque e sono arrivate con brother correggetemi se sbaglio o war of the machines o march of the machines uno dei due hanno portato le painland no che aiutano a fixare un po' la mana base perché il problema grosso di standard adesso è proprio la mana base le hanno portate loro no metà metà eh infatti eh quello quello non è poco hard malligan dall'altra parte hard malligan vai convoca 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 sì vai lo so che può fare questo e triggerare lei ma d'altronde che dovevo fare se gli toglievo questo lui dopo faceva questa e mi faceva removal se lo riprendeva che dovevo fa ah dopo pranzo se riesco ragazzi faccio un altro live terminiamo verso l'una e poi riprendo per le due fino alle quattro e poi basta vado a godermi il pomeriggio oggi dovrei riuscire a fare la doppia allora se lui è messo così in teoria bisogna spingere in teoria bisogna spingere però allora forse è meglio spingere con questa decisamente vai perché adesso questa c'è la possibilità contro di lui che arrivi a venti e spazi via la sua board certo adesso triggeri ancora perché attaccare non attacchi mai qua e noi passiamo così trigger food sì con tutto dentro vai 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 diciamo questo o questo in base a quello che fa lui altra warden l'importante è volare adesso renderà volabile la 4-5 che però non può ancora parare la 6 vediamo l'importante ripeto è giocare su di lei in questa partita qui ma tanto vale fare questa adesso intanto comunque è un trigger vai non so se può concretamente vincere lui cioè alla fine dopo noi possiamo fare lui più spacco il food che era quello che volevo fare questo turno avendolo tenuto in top ma va bene aver messo giù lui per chiuderla non so se può vincere lui concretamente ok fa removal sull'1-1 quindi poi fa un'altra removal sull'1-1 ma poi muore no perché sul 3-3 sull'1-1 è una scelta particolare questo noi possiamo fare removal sul 2-2 basta perché lui no perché si attiva come sorcery aspetta no facciamo così è morto comunque sì perché tanto non ci stava dietro potevamo fare specialista che rifaceva pezzo e poi facevamo anche tre vite qua la vedevo dura però vai 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 bello questo mazzetto comunque standard non capisco come sia il 50% sulle statistiche perché non l'ho visto mai nella vita però va carino carino forse l'ho visto un paio di volte turno 1 il problema è che poi non facciamo il turno 2 quindi no è turno 1 passo turno 2 vediamo anche questo gioca pensa te tom senza il naso perché sono io che gioco poco certo 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 voldemort esatto è lui è lui è tom riddle mono white aggro no ancora boros convoc vai questa la perdiamo contro boros convoc secondo me bannicorno 3 3 quindi davvero facciamo no vai 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 non lo so cucco non ho idea io è veramente quelle statistiche là sono stranissime per me cioè quel 50% lì non l'ho mai trovato veramente non avrei motivo di non dirvelo io ci guadagno con questo gioco ragazzi perché dovrei dirvelo cioè è questo che mi suona stranissimo 3k grazie mille per il quinto mese grazie di cuore grazie 3k grazie mille davvero grazie 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 davvero eh il problema è che devo togliere questo sì eh sì il resplendente è bello vederlo in gioco adesso fa quello e convoca no non può farlo devo farli tutte e due e poi convoca ah se non trovo perché non ha fatto quello per convocare poi non poteva forse ho contato male ma faccio così e faccio no non posso farlo ho sbagliato ho sbagliato volevo fare così per poi fare il resplendente angel dopo ma non si può però comunque due vite le riguadagniamo lui poi convocherà il turno dopo posso fare uno due tre non basta ancora per resplendente devo fare questo no anch'io non credo ita anch'io non lo credo però cioè secondo chi era un tapp aspetta sì secondo un tapp orzo va malia al 55% di win rate su 11.000 match mai visto forse due volte 11.000 match sono tantissimi ragazzi perché così ah per attaccare col 4-4 boh ha senso questo attacco oppo non lo so perché ne è un altro sì forse ce l'ha ho capito il rank ma è sempre lo stesso gioco Rugicus vabbè allora combat removal vai ma perché dici che budget ce l'hanno i giocatori questa la perdiamo ciao Mauro buona domenica buona domenica mauro eh sì questa è persa cioè ho pesco allora una due tre quattro sì potrei farlo doppio angelo però vuol dire che muore lei eh ma d'altronde eh ma d'altronde ah giusto niente morti e di tanto fare removal sì fare removal con quello su questo e c'è un po' solo un piccolo e moriamo a meno che ah ma lui ha usato ma lui ha usato il mana per fare l'emozione però ok vabbè perché tanto gli da il più uno più zero vai ah ne ha fatte due e ha dato un più uno più zero a tutte e due no? no perché deve andare in end quindi qui ci meno e basta vediamo ok eh ma moriamo sicuro è impossibile starci dietro sì è morti gg non bastano le quattro vite è troppa roba ok gg Voldemort è gg nella sezione casual play dice Barts che c'è un ah ma in play sì in play probabilmente sì se no li mandi veramente al macello alcuni però è strano che il 50% di un irate in ranked non sia portato in evento dai è stranissimo ragazzi 50% è tanto 50 55% di un irate 55% di un irate boh non capirò mai queste stat qua questa è bella tanto però vai mono red dip vai perché così possiamo fargli la meno 3 meno 3 su quello là esatto vabbè se butta due rimozioni su questo va bene considerando che poi facciamo specialista ah però merda c'è kumano no c'è l'esilia c'è kumano se ce la butta giù c'è l'esilia sì bisogna sperare che non gli faccia sopra doppio botto ma figurati se non lo fa figurati beh vabbè abbiamo risparmiato 4 danni e il turno dopo facciamo removal su feldon ah eh ma comunque vai poi shelly aia che cos'ha in mano madonna quanto sei aggressivo terra uccelli e speriamo e speriamo se pesca terra e non attacca va bene se pesca un botto siamo morti ha pescato quello che fa direttamente 5 danni vediamo ah no quello che fa backup perché giocano questo adesso sul 3 3 devi metterlo no però così hai sbagliato così hai sbagliato vai stiamo sempre a portata di morte tantissimo oh meno male per forza la nostra sacrifica quello ci ammazza buongiorno buongiorno gaucho buongiorno ok vuole riprendere sui spear lui sa come funziona questo eh però doppio spear comunque fastidioso ah allora fermi tutti e allora fermi tutti e allora fermi tutti eh cambiate un po' le robe la vogliamo questa si si ci guadagna troppe vite in più vai adesso c'è un 5-5 che ti blocca con cattiveria godrick che però non vola eh non puoi attaccare adesso facciamo shelly ma non dice ah cosa dice questo ah ma non ne ho è stato ucciso da cumano vabbè ho sbagliato facciamo così ciampa vai adesso me la perché non me la doppio parata che me la uccideva vabbè questo vola a volte gaucho ci sono le missioni settimanali eh a volte ci sono le missioni settimanali che te ne danno un botto un botto vero si si sono 6 danni sono 6 danni oppo non ti blocco 7 danni se vuoi 7 danni boh questo terra animo combat vai certo che la voglio vai fermiamo un blocco se lui non vola dovremmo essere vivi GG GG questo mazzo potrebbe piacere al P potrebbe piacere al P non ha i suoi angeli che ha ad ora parte 1 però potrebbe piacere al P ma come mai non gioca il 4-2 lifelink angelo con ward non è un drop a 4 quello non è un drop a 4 non è un drop a 4 chippabile vai ai 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 con buc si e poi conviene fare conviene fare lei 20-4-4 no perché potrebbero spararcela comunque vai oddio se li mette sotto due pezzi sono anche contento vai eccolo qua l'Aurelia il vendicatore di Aurelia è un 4-2 lifelink ward costa 4 perché non lo gioca questo mazzo chi lo sa è una maglia combo senza combo esatto esattamente vai vai turno dopo riusciamo a fare gli angeli se resta in vita lui berserker buongiorno Amalia combo è il verde certo eh fermo di lande GG GG Amalia combo ha corda della convocazione che spell incredibile è vecchissima eppure funziona ancora come se fosse allora non gli avrei scommesso sopra niente 4 vai 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 comunque è proprio bello standard ragazzi è proprio bello è diventato un bellissimo formato giù il cappello è proprio un bellissimo formato puoi giocare tutto a quanto pare ciao Isaac ciao puoi giocare veramente di tutto ci proviamo turno 1 turno 2 no è turno 1 per forza però dipende siamo un dead row se peschiamo una terra nera stappata possiamo farla di primo di secondo proviamo bello ma non ci investiresti le wildcard secondo me è sbagli però è psycho però ci può stare dai ci può stare nel senso che secondo me ha un potenziale clamorosamente forte invece clamorosamente alto invece perché difficilmente ricordo uno standard così ampio così vario così pieno di mazzi si è proprio messo male da controllo sicuramente però sicuramente ah beh per la storia della rotazione però arriva a settembre arriva a settembre la rotazione ragazzi guarda che passa del tempo ancora sono tre mesi più no di più no che cazzo dico tre siamo a febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto sono sei mesi sono tanti sei mesi no secondo me non è per la rotazione barz è perché veramente le nuove espansioni sono belle no ma non puoi attaccare bello questo è la no aspetta dopo prendiamo tre danni secondo me è proprio bello standard in generale adesso è proprio bello vai è proprio bello standard non c'è niente da fa vai per entrambe forse è vero prof per entrambe sono ancora convinto che questa non debba esistere ma per entrambe per entrambe ci sta ci sta upsyco ci sta ci sta è uno dei grandi problemi che fermano quelli che giocano tanto modern però vabbè guarda guarda solo questa partita quante carte vengono giocate negli altri formati lei 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 eh sono tante lei sono tante già eh sono già tantine cosa fai più 3 più 0 non sai danni inserire delni per raddoppiare i trigger può essere un'idea può essere un'idea no però telni raddoppia solo i trigger di base non raddoppia quelli tutti i trigger cioè lei la raddoppia una volta sola e lei non la raddoppia è vero prof quello è vero assolutamente vero è assolutamente vero sì vabbè qui facciamo questo più questo sa che abbiamo vinto pensare che una carta come mini torbran non sia quasi più giocata è incredibile veramente uno sì è vero raddoppia i life gainer di base però non raddoppia i oro cioè non raddoppia amalia non raddoppia voice che è su quello con cui poi vinci no però sì ti fa guadagnare una vita in più è vero è verissimo però qui è finita clamorosamente finita siamo a premio siamo a premio buono bravo barz però ruota solo cumano non ruota monastery monastery è tra due anni è vero shelly sembra una carta normale è vero è vero quando c'è rimane sulla bordo è fortissima però è vero sembra molto più normale è verissimo verissimo purtroppo per il monastery eh monastery è forte eh monastery gli hanno dato una bella spinta anche col suo compagno goblin adesso eh è bello standard però proprio bello guide dog però ripeto ragazzi secondo me quando si dice che il gioco sta andando male secondo me sta andando male tutto il gioco magic the gathering è tutto un po' fermo arena a me non sembra che stia andando male da quel punto di vista lì perché boh standard è bello historic è bello timeless eh purtroppo è un boh historic scusate pioneer se si azzarderanno a fare qualcosa non si sa però arena non sta andando male per i nuovi giocatori giocare uno standard bello è molto bello ahiaiai gesky control parrebbe un gesky control noi abbiamo una gran mano di merda contro un gesky control no no male nel senso il gioco il gioco il gioco non le vendite il gioco cioè i formati sono tutti stati un po' fermi in questo periodo però arena funziona cioè arena sta funzionando bene adesso e con i formati di arena modern è fermo per esempio modern sento molta gente che si lamenta legacy non ne parliamo pioneer è lì è nell'inbot timeless è più brutto di tutti gli altri tre messi insieme ma vabbè e vediamo ciao ciao loxart cioè comunque la macchina arena va la macchina arena va è questo il concetto no la macchina arena va e non possiamo essere insoddisfatti del fatto che la macchina arena vada psycho grazie mille per il quarto mese grazie di cuore psycho eh esatto barz esatto no come legacy non è un formato competitivo no mimi c'ha dei giocatori che sono fantastici no vabbè bisogna dire che è competitivo legacy non si può dirgli no eh proviamo a fare questa shelly ma gli arriverà una vratta nei denti clamorosa e poi se fa vratta me ne roco con con l'animabile vabbè legacy ragazzi non si può definire non competitivo però eh forte legacy è bellissimo come formato vabbè cosa faccio concedo è fermo di lande però ma attenzione fermo di lande a counter spell eh mi sa di si no more lies modern lo hanno ammazzato in che senso perché ai 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 eh vedi classica l'esatto esatto vabbè questo qui è ingiocabile questa partita ragazzi si contro controllo questo mazzo guarda se non ha le mano bellissime e di là non ha una mano scarsa questo mazzo guarda e basta contro controllo vediamo cosa fai tu ho capito ho capito ho capito GG GG grande notte mi fa piacere eh Ambro è stato super generoso e lo ri ne approfitto per ringraziarlo ancora anch'io davvero tantissimo benvenuto comunque notte davvero Bandi Karn Karn è stato bannato in Pioneer un po' di tempo fa scusate domanda che formato è Legacy è il secondo formato più grande di Magic the Gathering subito dopo il vintage è ucciso completamente il verde si barrato assolutamente si io non ero d'accordo sul Bandi Karn infatti eh secondo me non si devono mai bannare le risposte si devono bannare le minacce Karn non è una minaccia del meta si devono bannare le risposte quando si deve fare un ban se si bannano le minacce non ha molto senso ecco contro Domain tipo cosa combina questo mazzo il nulla totale il nulla totale credo beh allora il allora sul metashery il discorso è un po' diverso Mimì perché loro hanno considerato Karn come pezzo fondamentale di Mono G Devotion è giusto farlo non lo so però non era un discorso di è troppo giocato era un discorso del Mono G Devotion ci vince troppo è Barz lo capisco però perché non sì ci sta ma perché non bannare Niktos allora capito è quello la mia grossa la mia grossa perplessità è hanno bannato Mono G Devotion ma non hanno bannato Niktos hanno bannato Karn e perché cioè non lo capisco molto bene come dice nel senso è il senso di quello che vi sto dicendo è se tu vuoi limitare il mazzo Mono G Devotion perché è questo che mi stai dicendo cioè secondo te Mono G Devotion in questo momento è troppo forte perché se vai a bannare solo in quel mazzo mi stai dicendo Mono G Devotion è troppo forte ma perché cioè cosa c'era di Mono G Devotion che lo rendeva troppo forte il fatto che citasse sul mana ragazzi dai non è un'altra cioè non c'è nient'altro da dire è perché citava sul mana e allora dico questo è forte contro domain però e allora dico perché Karn e non Niktos cioè è Niktos che fa funzionare Karn ragazzi perché tu fai Karn e ne abusi perché fai la vai a prendere pezzo il pezzo lo casti praticamente gratis eccetera eccetera e allora mi continuo a pensare non era più sensato bannare Niktos se è Niktos che rompe Karn perché Karn puoi rispondere apriva anche la combo col calderone però in contemporanea la fermava guardate io davvero quando penso a questo ban un pochino rimango sempre deluso da come ha lavorato Wizzy secondo me perché non è io non avrei lavorato così cioè ci può stare come ban però è un ban che io non avrei sbandierato come risolutrice del meta anzi è un ban un po' un po' un po' strano Niktos da solo non basta Niktos non lo giochiamo anche in monogistompi quello che ti fa di secondo il 3-3 Barz cioè io prima di vedere Karn bannato avrei voluto vedere il ban di di Niktos per capire quanto influiva per davvero sul meta Karn non so se mi sto spiegando perché noi adesso sappiamo che effettivamente Karn bloccava delle strategie d'accordo però tutti quelli che avevano monogidevotion adesso non giocano più se invece l'avessero lasciato Karn e avessero bannato un altro pezzo di monogidevotion monogidevotion sarebbe rimasto può essere non lo sappiamo però non lo sappiamo capito perché l'ho lasciato in cima sbagliato non lo sappiamo a quello di scusa a me dispiace che un sacco di ragazzi abbiano perso il loro mazzo senza aver provato a fare un testing di questa cosa mi dispiace mi dispiace non la ritengo una cosa correttissima poi oh effettivamente il band di carne ha dato luogo a un pioneer diverso per carità però era sempre una risposta cioè non so se era considerabile minaccia carne in quel momento lì non lo so è capito può darsi Barth capito è quello che sto dicendo perché non lo hanno provato li pagano tutte e due vabbè si tanto li riguadagna che gli frega perché non hanno provato è questo mi sa di strana cosa poi attacca col 2-2 beh noi facciamo VR2 qua se non ha una leyline in mano che ce l'ha sicuramente però e allora come facciamo facciamo che la leyline gliela facciamo tirare su Shelly se ce l'ha non ce l'ha mi sa 5 no vai eh capito Davide boh ma non so queste però sono cose su cui rifletto queste sono cose su cui rifletto e non ho assolutamente la verità assoluta non voglio averla però ci penso no da giocatore dico ma e se avessero fatto così cosa sarebbe successo sarebbe stata la stessa cosa sì no forse l'avrebbero lasciato in meta sì no non lo so a me piace riflettere su queste cose poi io sono uno che riflette tanto sul gioco in generale mi piace tanto riflettere sul gioco ah qui posso ricastare Amalia e Aklazot no se fa Sunfall sì questo sì se fa Sunfall si esilia un po' di roba vai ma secondo me vince lui di Vrattona o di bo vediamo avrei potuto fare anche i Virtu update install con Giuscelli ci piace in realtà però è vero che fa vantaggio sì va bene questa questa ci ammazza Aklazot però possiamo rifarlo poi cioè l'importante è che ci sia Shelly on board in realtà e Shelly tra l'altro questo ci dà una terra no com'è che funziona ah possiamo farla dopo quindi attacchi con l'8-8 tu ma a noi ci interessa che attacchi con l'8-8 ah non attacca con l'8-8 ah e allora sì sì ci serve per le vite di lei facciamo subito questo via pianura ok sì 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 terra Aklazot e vai vediamo cosa pesca sì no ma ci sta Barz dare la possibilità agli altri manzi di sfruttarlo secondo me una carta come Niktos è sempre pericolosa quindi fa un botto di 1-1 e prende due danni ha un botto di 1-1 lui di 3-3 scusate ha mica vinto però eh se Amalia va avanti non ha mica vinto no questa cosa fa ulta a un certo punto az quindi diventa fortissimo a un certo punto però deve iniziare ad attaccare con pezzi grossi anche esatto questo non ha troppo senso come attacco ma ok si prendo trigger si mio turno allora si questo questo leone grazie mille per il follow benvenuto caro questa grazie mille leone sempre la pianura facciamo anche lei è un trigger in più è un trigger in più due trigger in più scusate vai gioco nel recruiter ma adesso tanto fa la ulti di questa vince 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 eh si gg vabbè a premio ci siamo arrivati ragazzuoli questo è quello che conta in questo mazzo buono bello 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 si si no stavo cercando un modo a una calima ma era impossibile bello bello comunque a premio ci è arrivato ho fatto il suo 5 è un mazzo carino può piacere a tutti quelli che giocano live game che hanno le loro carte è bello mi piace vado solo a vedere se per caso si può migliorare un po'